Flavoral Il mondo da così a così Possiamo mangiare meglio? Sì, basta variare l'alimentazione Quante volte mangiate carne di pollo, tacchino, coniglio, poche? Male E Agnello e Capretto, quelli nostrani, li mangiate solo a Pasqua? Sono tutte carni genuine, nutrienti, facili da cucinare Sceglierle ne vale la pena Lo dico per voi, chi sceglie con intelligenza ci guadagna Sì, oggi per avere un orologio di moda non dovete più cambiare orologio ogni giorno Dalla Svizzera è arrivato Epoch Epoch, mille mode ma un solo orologio Ti è e ti è, capito? Le piastrelle Gerflor sono belle E in più sono molto autoadesive E hop Gerflor, per pareti e pavimenti E hop Mordi, 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 lecchi, 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 succhi E il dorado E il dorado, gelo su, così Fammi vedere com'è la bocca No, troppo piccola Mordi, 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 lecchi, lecchi, succhi, succhi E il dorado Gelati per bocche super Gelo su, così Ehi, quello sì che ha la bocca super Mordi, 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 lecchi, lecchi, succhi, succhi E il dorado Gelati per bocche super Il bisogno di zucchero è proprio naturale Lo zucchero è naturale Ah sì, è sì, ma Zucchero Ah sì, è sì, è già Lo zucchero è pieno di vita Ah sì, è sì, è già Zucchero Buone le cipolline Sott'olio? No Sott'aceto Né sott'olio né sott'aceto Sono cipolline alla peperlizia fondi Cipolline e peperoni alla peperlizia fondi Una delizia Di più, una peperlizia Questo programma è stato offerto da La certezza di piacere Sott'olio né sott'olio né sott'olio né sott'olio